Sequestrato un milione e mezzo di dollari in titoli di credito falsi. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Sassari ha fermato il sottoposto a controllo nigeriano, residente in provincia di Napoli, già noto le forze dell'ordine per spaccio e sostanze stupefacenti. Le fiamme gialle hanno ispezionato l'appartamento del cittadino africano, dove hanno trovato un ingente numero di titoli di credito falsi. Si tratta di oltre 1.500 ordini di pagamento dell'Istituto di Intermediazione Finanziaria MoneyGram, ciascuno del valore nominale di 994 dollari statunitensi, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di dollari dichiaratamente emessi in Texas. Il nigeriano, che non è riuscito a giustificare il possesso dei documenti, è stato deferito alla locale autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre sono tuttora in corso le indagini per risalire alla provenienza dei titoli di credito sequestrati.